buongiorno sono raffaella e oggi vi voglio presentare questo simpatico completo bini e sciarpa realizzato con la lana insieme della linea ruxuli di tre sfere filati cominceremo con il realizzare il cappello e successivamente la sciarpa questo gomitolo vi permette di realizzare entrambi per eseguire questo progetto vi occorreranno un paio di ferri numero 5 un'ago da lana sempre con la gruna leggermente grossa e un paio di forbici vediamo ora come procedere monteremo 80 maglie procediamo facendo il cappietto facciamo uscire dal circolino che abbiamo realizzato il nostro filo tiriamo leggermente si forma l'asola passiamola sul ferro tiriamo leggermente e il nostro primo punto è montato sempre il nostro procedimento classico per cui dito pollice prendiamo il filo il medio prenderà il filo che arriva dal gomitolo l'indice al centro ruotiamo leggermente il ferro di destra va a inserirsi vedete in questa piccola fionda chiamiamola così si inserisce esce il ferro va a caricare il filo che arriva dal gomitolo estraggo tiro e monto il secondo punto rivediamo insieme poi procediamo a montare gli 80 punti pollice con il filo che abbiamo lasciato per montare i punti pollice il medio va a prendere il filo che arriva dal gomitolo creiamo con l'indice al centro questa specie di fionda il nostro ferro andrà a caricare il filo dall'asola che si forma vedete prendo entro da sotto faccio uscire il ferro vado a prendere il filo dal gomitolo carico estraggo e procedo così fino a mettere 80 punti totali una volta montate le nostre 80 maglie procederemo a lavorare un giro un ferro a legaccio per cui tutto a diritto vediamo insieme prima maglia di vivagno la porto sul ferro senza lavorarla ve lo faccio rivedere entro con il ferro la prendo da sotto e la porto sul nostro ferro di destra senza lavorarla procedo con entrare nella prossima maglia carico il filo estraggo è nostro secondo punto è realizzato ferro di destra entro al centro del punto carico il filo estraggo e faccio cadere la maglia procedo così per tutta la riga ci vediamo alla fine dove dovremo impostare il nostro punto sabbia per realizzare praticamente quello che è il corpo del nostro berretto procediamo ora con l'impostare il nostro punto sabbia allora il punto sabbia vi ricordo che è sviluppato su due ferri il primo si lavora tutto a diritto e il secondo un dritto e un rovescio ovviamente lasciando la prima maglia e l'ultima maglia di vivagno il primo ferro che noi andiamo a realizzare ora sarà il rovescio del lavoro per cui la lavorazione vi risulterà sul ferro di ritorno per cui sul ferro pari vediamo insieme ora come procedere lavoreremo il primo ferro tutto a diritto per cui la nostra maglia di vivagno e proseguo a rasato diritto per tutto il ferro una volta terminato ci vediamo che con il secondo ferro vediamo insieme come realizzare la vera e propria lavorazione secondo ferro di lavorazione sempre la nostra maglia di vivagno e procedo lavorare un diritto e un rovescio allora per il diritto punto il ferro di destra nella maglia carico il filo ed estrargo per il rovescio come vedete il filo lo porto davanti al ferro entro con la punta del ferro destro sotto la nostra maglia carico il filo estrargo e faccio cadere la maglia ripeto un diritto e un rovescio per tutto il ferro ricordatevi sempre maglia di vivagno e partite con una maglia diritto e ripeterete una maglia diritto e un rovescio per tutto il ferro e questo è il secondo ferro di lavorazione dovremmo ripetere i due ferri del punto sabbia fino a raggiungere un'altezza totale di 20 centimetri ripetendo sempre un ferro diritto e un ferro con una maglia diritto e un rovescio vi ricordo la maglia di vivagno non contatela e segnatevi sempre o perlomeno memorizzate che la prima maglia che dovete lavorare sarà un diritto ok un diritto un rovescio per tutto il ferro e termineremo con la maglia di vivagno ci vediamo a 20 centimetri per procedere insieme la lavorazione bene siamo arrivati a 20 centimetri di altezza totale come vedete proseguiremo ora lavorando ancora un ferro a punto sabbia poi sospenderemo la lavorazione a punto sabbia e proseguiremo a legaccio ovviamente legaccio vuol dire lavorare tutti i ferri a diritto e provvederemo ad inserire delle diminuzioni per dare forma al nostro berretto vediamo insieme ora come procedere facciamo un ferro a punto sabbia e poi ci rivediamo alla fine ora dal rovescio del lavoro come vedete terminato il ferro a punto sabbia sono sul rovescio e comincerò a lavorare a legaccio per tre ferri per cui uno ferro di ritorno sul diritto due terzo ferro sul rovescio e al quarto ferro inseriremo le nostre diminuzioni che vedremo insieme se volete carta e penna alla mano così vi ricordate al numero del ferro dove dovete inserire le nostre diminuzioni comunque le vedremo insieme durante la lavorazione del nostro cappello ci vediamo alla fine dei tre ferri a legaccio e vediamo insieme le diminuzioni ho realizzato i tre ferri a legaccio ed ora provvediamo a inserire le diminuzioni dal quarto ferro vediamo insieme come fare lavoreremo insieme le prime due maglie a diritto per cui entro con il ferro in entrambe le maglie carico il filo ed estraggo e io ho fatto la mia prima diminuzione proseguirò con tre punti a diritto 1 2 e 3 nuovamente la nostra diminuzione per cui due insieme a diritto vedete il ferro di destra entra in entrambe le maglie carico il filo estraggo e faccio cadere proseguo con tre diritti ripetiamo la sequenza per tutta la riga ok tre insieme a diritto scusate due insieme a diritto e tre maglie sempre a legaccio ci vediamo alla fine della riga per vedere gli ultimi punti da lavorare insieme sono arrivata alla fine della nostra riga e dovrò eseguire nuovamente due insieme a diritto e terminerò con le ultime tre maglie a diritto una due e tre passo successivo è lavorazione nuovamente di tre ferri a legaccio per cui uno sul rovescio due e nuovamente tre sul rovescio al quarto ferro che poi sarebbe l'ottavo andando in ordine per cui segnatevi diminuzioni al quarto ferro e all'ottavo vedremo insieme nuovamente come inserire le diminuzioni ci vediamo alla fine dei tre giri dei tre ferri per nuovamente lavorare insieme siamo arrivati all'ottavo ferro e procediamo a inserire le diminuzioni nel nostro lavoro lavoreremo due insieme a diritto e procederemo lavorando tre maglie a diritto una due e tre vediamo insieme due insieme a diritto per cui allargo leggermente la prima maglia se non riesco a entrare col ferro di destra come vedete passone entrambe le maglie carico il filo estraggo e faccio cadere e vado avanti con tre maglie a diritto una due e tre ripeteremo la sequenza fino alla fine della riga dove vedremo come terminarla e poi ci rivediamo siamo arrivati alla fine della riga ho ripetuto la nostra sequenza terminerò con due insieme a diritto e solo due maglie a diritto e noi abbiamo terminato anche questa riga le nostre diminuzioni procediamo ora come detto in precedenza lavorando tre ferri a legaccio ci vediamo alla fine di questi tre ferri dove ripeteremo nuovamente le diminuzioni siamo arrivati al nostro dodicesimo giro come vedete il nostro cappello comincia a stringersi e dovrò inserire le diminuzioni nell'arco di questo ferro procederemo lavorando tre maglie a diritto la prima io la considero di vivagno e proseguo con due a diritto e lavorerò adesso due insieme a diritto proseguo con tre diritti uno due tre e lavoro poi due insieme procederemo a rifare la nostra sequenza di tre maglie a diritto e due insieme fino alla fine della riga dove vedremo come lavorare insieme allora ripetiamo la nostra sequenza siamo quasi arrivati alla fine della nostra riga con tre diritti 1 2 e 3 proseguirò con due insieme e lavorerò la nostra ultima maglia a diritto giro il lavoro e vado avanti a lavorare a legaccio per altri tre ferri e arriveremo al sedicesimo ferro ci vediamo lì per le diminuzioni siamo arrivati al nostro sedicesimo giro ferro pardon in questo ferro dobbiamo distribuire nove diminuzioni come faremo lavoreremo insieme per cui due insieme a diritto le prime due maglie proseguirò con due maglie insieme a diritto e ora ripeto la sequenza che abbiamo fatto in precedenza due insieme a diritto e tre maglie a diritto per tutto il ferro ci vediamo alla fine per vedere come terminare la nostra riga siamo arrivati alla fine della riga io ho fatto la mia ultima sequenza di due insieme a diritto e tre diritti terminerò il nostro ferro con due insieme a diritto e due maglie a diritto ora nuovamente la solita sequenza dei tre ferri a legaccio poi ci rivediamo al ventesimo ferro per nuovamente distribuire le diminuzioni siamo al nostro ventesimo ferro e in questa riga noi dovremo diminuire le maglie lavorando due insieme a diritto per ogni coppia di maglie che troviamo vediamo insieme come fare cominciamo con due insieme a diritto procederemo nuovamente a lavorare due insieme a diritto e questo lo faremo per tutto il nostro ferro in sostanza dimezziamo le maglie che abbiamo sul nostro ferro una volta alla fine della riga ci rivediamo insieme per terminarla e poi proseguiremo per ovviamente lavorare nuovamente i nostri tre ferri a legaccio lavoriamo vedete siamo arrivati alla fine del ferro abbiamo ancora due maglie da lavorare insieme ne sono rimaste tre sul ferro che faremo le lavoreremo tutte e tre insieme di modo che avremo poi le maglie pari ok ecco qui come vedete il nostro cappello oramai è arrivato quasi alla fine abbiamo quasi dimezzato tutte le maglie rifaremo per l'ultima volta i tre ferri a legaccio e poi ci vediamo per l'ultimo giro per vedere come terminare il cappello ventiquattresimo ferro lavorato a legaccio ora dovrò procedere diminuendo le maglie a due a due nel corso di questo ferro che poi è l'ultimo e il nostro cappello è terminato come vedete nell'arco dello svolgimento del nostro filo si presenta a noi vedete questo filo totalmente bianco peculiarità di questo gomitolone della lana insieme è che vi mostra effettivamente dove dovete staccare il filo per formare cappello e sciarpa per cui da adesso in avanti terminato il nostro cappello il filo che ci sarà nel nostro gomitolo servirà esclusivamente per la lavorazione della sciarpa come vedete siamo in linea abbiamo fatto una divisione corretta e procediamo ora a terminare il nostro cappello vediamo insieme come due insieme a diritto nelle prime due maglie e proseguirò lavorando così per tutto il ferro ora lo vediamo insieme perché sono proprio una manciata di punti vado avanti proseguendo lavorando sempre due maglie insieme a diritto ecco qui le ultime due una due e il nostro cappello è terminato ora staccherò il filo vedete fino a quando cambia colore prendo il mio ago infilo il nostro filo bianco e lo passo con l'ausilio del nostro ago attraverso le maglie che ho sul ferro facendole passare sull'ago prendo l'ago passo attraverso la maglia vado avanti faccio cadere dal ferro proseguo entro con l'ago nella maglia e la faccio scalare sul ferro entro con la con l'ago così nella maglia come se dovessi prendere per lavorarla e la faccio scivolare sull'ago procedo con tutte le maglie abbandono il nostro ferro faccio passare l'ago ok il filo è passato attraverso tutte le maglie stringiamo bene ed ora andiamo a cucire il nostro cappello se avete difficoltà potete comunque in ogni caso fissarlo così con uno spillo per avere poi le righe pari e noi andiamo a cucire allora io faccio il primo giro con voi ok tiro bene di modo che il nostro circolino si chiude e non si provocano poi fuori successivi e vado a cucire adesso così mi è un po' difficoltoso però ve lo mostro tranquillamente ecco io ho fissato il nostro circolino procedo prendendo sempre una maglia da lato e una maglia nel lato successivo e fisso il nostro lavoro una volta terminato di cucire farete passare il filo d'avvio attraverso le maglie della cucitura lo nasconderete e il nostro cappello bini è terminato nel prossimo step vedremo come realizzare la nostra sciarpa con il resto della nostra lana realizzeremo la nostra sciarpa allora cosa vi occorrerà? sempre i ferri numero 5 il nostro ago da lana e la nostra forbice ora spostiamo queste cose e cominciamo a montare il numero di maglie che ci occorre per la sciarpa due parole sul modello è un modello molto semplice sempre lavorato appunto sabbia come è stato per il nostro cappello l'unica particolarità che ha questa sciarpa è che è fatta in diagonale per cui dovrete prestare attenzione bene agli aumenti e diminuzioni per poi lavorarli sul ferro successivo in maniera adeguata cominciamo ora con il montare le nostre maglie ci occorrono 40 maglie per cui iniziamo con il cappietto faccio un cerchio lo chiudo con il dito lo tengo fermo faccio passare attraverso sempre il nostro filo estraggo faccio un occhiello tiro bene e monto sul ferro ok e questo è il nostro primo punto sempre con il nostro solito metodo pollice il medio che tiene il filo che arriva dal gomitolo passo con l'indice al centro faccio una specie di fionda ok con il ferro di destra entro da sotto esco nel mezzo vado a prendere il filo che esce dal gomitolo carico faccio cadere e tiro nuovamente dito pollice prendo il filo ok vado a prendere con il medio il filo che arriva dal gomitolo indice al centro indice al centro faccio queste specie di ali ruoto leggermente il pollice con il ferro di destra vado al centro estraggo carico il filo faccio cadere la maglia e il nostro punto è fatto bene ne montiamo 40 e ci vediamo alla fine per impostare la lavorazione cominciamo a impostare la vostra navolazione del punto sabbia per cui primo ferro a diritto allora maglia di margine che non lavoro e che faccio passare sul ferro di destra e lavorerò tutte le maglie a diritto una cosa che non vi ho detto ma che potete aggiungere a vostro piacimento io ho fatto una sciarpa senza margini senza cimosa se voi preferite avere una cimosa per cui che la vostra sciarpa non si arricci potete aumentare due maglie in più e lavorerete le prime due maglie e le ultime due maglie a legaccio io qui non l'ho fatto questa è una vostra scelta procediamo con la lavorazione a diritto ci vediamo alla fine della riga per fare il ferro di ritorno per il ferro di ritorno lavoreremo sempre la nostra maglia di vivagno per cui faccio passare una maglia sul ferro destro a diritto senza lavorarla rivediamo ferro di destra entro nella maglia faccio scivolare sul ferro di destra e non lavoro tiro bene il filo mi raccomando la prima maglia la lavorerò a diritto la seconda porto il filo in avanti la prendo da sotto e lavorerò a rovescio riporto il filo dietro e proseguirò a lavorare sempre un diritto e un rovescio per tutto il nostro ferro ci vediamo alla fine dove imposteremo poi il nostro lavoro in diagonale abbiamo lavorato i nostri due ferri il primo come vedete sarà il rovescio del lavoro mentre questo sarà il nostro davanti ora noi dovremo impostare la lavorazione diagonale per cui dovremo dare la forma appunto della nostra sciarpa in diagonale come faremo semplicemente dovremo aumentare una maglia all'interno della prima e lavorare un accavallato all'interno dell'ultima sempre lavorando tutte le maglie a diritto vediamo insieme prima maglia a vivagno per cui faccio passare sul ferro di destra senza lavorare poi lavorerò un gettato e proseguirò a lavorare le nostre maglie tutte a diritto mantenendo ovviamente quella che è la lavorazione che abbiamo fatto precedentemente ora lavoriamo insieme fino alla fine del ferro dove dovremo effettuare il nostro accavallato semplice sempre mi raccomando sia l'aumento che la diminuzione all'interno della prima e dell'ultima maglia ora ci arriviamo mancano una manciata di punti vi raccomando sempre le prime i due ferri da ripetere allora siamo arrivati le ultime tre maglie lavorerò un accavallato semplice faccio passare la maglia sul ferro di destra senza lavorarla la successiva la lavoro a diritto accavallo la maglia non lavorata alla maglia lavorata a diritto e io ho fatto la diminuzione termino con la mia maglia a vivagno a diritto ora giustamente la lavorazione si è spostata di conseguenza facendo fede alla riga sotto noi dovremo andare ad individuare la prima maglia visto che ho fatto una diminuzione nel ferro precedente non inizierò con un diritto ma inizierò con un rovescio per cui la nostra lavorazione si sposta allora vediamo insieme maglia di vivagno e come vedete sotto ho il rovescio non ho il diritto come abbiamo impostato nella seconda riga per cui lavorerò tranquillamente il mio rovescio e poi procederò sempre con un diritto e un rovescio fino alla maglia che abbiamo aumentato nella riga precedente allora ci vediamo alla fine del ferro e vediamo come lavorare sono arrivata agli ultimi tre punti come vedete io devo lavorare un rovescio visto che ho lavorato un diritto ed ora sono al gettato che abbiamo fatto nel giro precedente dovrò lavorarlo a diritto ovviamente seguendo quello che è la lavorazione ma attenzione non lo lavorerò prendendolo da sotto ma lo lavorerò in maniera crociata per cui andrò a prendere con la punta del ferro di destra entrerò attraverso la maglia vediamo se riesco a mostrarvela meglio allora questo è il nostro gettato ok non lavoro così ma entro attraverso il nostro gettato e lo prendo da dietro faccio il mio diritto faccio cadere e come vedete non si forma il buco praticamente la lavorazione a tessuto prosegue lavorerò a diritto la mia maglia di vivagno e proseguo a ripetere questi due ferri per cui il gettato all'inizio e l'accavallato semplice alla fine ora io ho lavorato finché ho avuto lana voi siete liberi di terminare la vostra sciarpa a secondo delle vostre esigenze il filato insieme per me è molto particolare per cui ho voluto gestire tutto quello che è il mio filato facendo una sciarpa abbastanza considerevole per poi permettere di fare il fiocco e quant'altro se volete una sciarpa più piccola non dovrete nient'altro che aumentare il numero delle maglie per cui la verrete più larga ma ovviamente la lunghezza sarà inferiore e ovviamente dovrete sempre distribuire la nostra elaborazione sulle maglie che voi dovrete mettere per cui saranno sempre pari perché lavoriamo sempre un diritto e un rovescio io non ho nient'altro da spiegarvi se non la chiusura dunque per la chiusura io ho intrecciato le maglie vedete sul rovescio del lavoro come? vediamo insieme la nostra maglia di vivagno la faccio passare sul ferro di destra senza lavorarla proseguo con un diritto e a cavallo la prima maglia alla seconda come vedete io ho intrecciato una maglia proseguo sempre a diritto sulla maglia successiva prendo il ferro di sinistra e lo a cavallo alla maglia e io ho intrecciato faremo così per tutte le maglie fino ad arrivare all'ultima dove taglierò il nostro filo e estrarrò la maglia per poi passarla nelle maglie ovviamente appena intrecciate facendo sparire le codine questo ho saputo penso che lo sappiate tranquillamente eseguire però vediamo insieme come fare allora poniamo che io mi fermo qua taglio il filo estraggo la nostra maglia vado a prendere il nostro filo lo inserisco nell'ago io per sicurezza faccio sempre un nodino vicino vicino alla nostra maglia terminata tiro bene e poi faccio sparire la nostra coda all'interno delle maglie ok prendendo vediamo se riesco a alzarlo bene farlo vedere entrando nell'asola e uscendo poi nella successiva faccio lo stesso per la nostra codina d'inizio il nostro lavoro è terminato vi auguro una buona continuazione con i prodotti 3 sfere e al prossimo progetto